Ripresa, la riete, new entry, la riete, Giuliano intervista, Giuliano, Giuliano intervista, di nonostante, oggi dump per la bivio, si capisce se andiamo a destra o a sinistra, a ogni bivio, basta con questo centro, basta con questo centro, o a destra o a sinistra? Stop, stop, saluto. Andiamo a passo del nardo, portiamo il camoscete a passo del nardo, obbiettivo passo del nardo da tutti i corso! E' un utopico.